benvenuti a tutti benvenuti in una nuova live qui sul canale viola e benvenuti su un nuovo video su youtube si 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 andiamo avanti con A Plague Tale speriamo di finirlo e vediamo di fare un altro capitolino e poi iniziamo i nuovi giochi stiamo finendo appunto A Plague Tale manca Resident Evil 4 per poi passare ad altro ho un backlog che è infinito però voglio appunto giocare con voi alcuni giochi quindi porterò in live altra robetta un retro gaming e un gaming dell'età nostra dell'età moderna diciamo andiamo avanti con la storia allora eccoci qua andiamo avanti siamo nel capitolo undicesimo la culla dei secoli amici e hugo e sofia raggiungono il forte dove un gruppo di schiavisti era intento a sacrificare degli schiavi secondo la visione del culto del figlio delle bracci il loro capo milo intendeva assicurarsi un posto accanto al trono del figlio e sposer tale il conte ma hugo fa il suo il suo potere per punire i fanatici causando degli attriti con amicia la mia lettura vabbè nella cripta di un'antica cappella la ragazza scopre l'eredità di aelia e la sua posizione del precedente portatore dopo che sofia uccide milo per salvare i fratelli de rune hugo disobbedisce nuovamente ad amicia distruggendo il forte con i ratti e qua non vi dico sofia dai fratelli una bella strigliata i tre tornano alla ricerca della mappa dell'isola quindi procediamo a questo piccolo riassunto ok ci siamo ci sono i topini tanti topini ok andiamo qui la vedo un po' ardua la cosa vai via al resto qua arriviamo di qua bene qui ma fatemi capire una cosa abbiamo una torcia là in fondo la becco? sì perfetto quindi facciamo così no fermi facciamo la pace bene bene no no quella questa bravo no facciamo così facciamo l'incontrario ah abbiamo i bastoncini qua allora allora è semplice aspetta bastoncini hop e via oh vedi mo che abbiamo trovato il sistema mi faceva più complicato del previsto bene e siamo arrivati anche qua qui c'è dell'erba perfetto andiamo prima che si spenga un bel baule ok adesso accendiamo questa e andiamo con Sofia e vai macello topini ovunque prendiamo tutto oh questo passo è un po' bastardo allora questa perfetto Sofia dove sei? vai chi è? oh perfetto andiamo di qua adesso eeeh si scusa perfetto qua mettiamo questo e tiriamo bene via 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 dai 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 corri ok perfetto ok ci siamo riusciti ci siamo riusciti ragazzi prendiamo il carretto vai chi è? dai adesso andiamo avanti con questo molto bene vediamo il carretto per fortuna c'è Sofia che riporta sempre all'ordine di due qua che ormai uno è distrutto l'altra può andare avanti lo stesso bene qua non si può andare avanti ovviamente c'è la ghirlanda qua che uh fermo e questo perfetto via 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 ottimo via via oh non ci schiare vai adesso bisogna del tuo aiuto uh un dardo aspetta che facciamo un po' di pozioni qua perfetto ora si può prendere e Sofia mi serve che fai col tuo prisma ok perfetto brava molto bene andiamo su siamo arrivati ok qui dobbiamo andare giù perfetto trovato trovato via che andiamo alla grande eccolo abbiamo fatto un bel buco bene bene quindi andiamo giù dai che ci va andiamo a vedere e vai che brava bene oh che bella la cavernucola la bat caverna qua spero che non vengono fuori stirati i maledetti andiamo sempre più giù qui c'è qualcosa oh sì porta a casa alcol e zolfo e no 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 questo e luce fu cosa c'è cosa c'è cosa c'è oh oh che figo abbiamo acceso le luci bello bello mi piace lì abbiamo un bel baule apri apri porta a casa porta qua che cosa c'è che c'è c'è qualcosa che c'è qualcosa sopia se no c'è c'è un bel baule qui il baule è è deve essere lui Alia ha escapato la cappella ha escapato tutto è voleva portare a Bacilius lì 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 siamo il baule il baule lì 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 Qui? Si va giù? Sofìa dove sei? Sei lato? No, mi riciocherai, perfetto. Qua c'è una luce accesa, come va in qua? Questa luce chi l'ha accesa? L'ha accesa quando l'ha accesa le altre su? Che ci sia qualcuno, non penso. Non vengono qua da secoli. Chiusa. Oh, buono. Sì, proviamo verso questa porta. Sì? Ci sono abbastanza, ma... Ho fatto la mia famiglia di spettacare le cose, sai? Tu! Ok. Ora prendi spettacolo. Amicia, tu traciasi l'ignizione. Siamo spettacoli? ok perfetto lancia inferiore il battaglio per fare le spazio delle stuglie ok molto bene permesso abbiamo un tavolo qua che non potrà fare nulla ovviamente esattamente posso fare nisba qui porta bloccata un po di roba ok un dardo buono qui c'è un varile dobbiamo farlo saltare che bello adoro le esplosioni mamma facciamo un po di rumore per i topi bravi bravi incredibile guarda c'erano bambini qui? si c'erano bambini che significa che non siamo soliti qui e lui non è solito esatto ma lo vediamo e magari lo vedremo se non è stato troppo si sì cardellino non ditemi che ho fatto tutta fatica per delle piume ah mi sai sì qua si può andare su? no sì bello ok abbiamo la porta qua da capire come passare bello un barile? apertura perfetto andiamo su qui non c'è niente oh sì barile per far esplodere mamma più o meno che fanno esplosioni a manetta sai che? morti persone probabilmente abbiamo trovato Alia's trail non voleva prendere i giocatori hanno preso la credo rotami bene ok presumo che dobbiamo far scendere un carretto esatto 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 vai a posto aspetta che faccio esplodere wow si apriva i portculli Kurt è about to go beh non ci siamo non ci siamo oh oh boom è open credo Dove cacchio stiamo andando qua, ragazzi? È tutto assoluto all'isola, eh?